Preparati a restare a bocca aperta. Nelle prossime puntate di Endless Love, i colpi di scena non mancheranno. Nella puntata di lunedì 30 settembre, Kemal sconvolgerà tutti con una mossa audace, una lettera segreta nelle mani di Tufan, destinata al misterioso ricattatore di Emir. Ma il vero shock. Kemal è vicino a scoprire la verità più sconvolgente di tutte. Sospetta che dietro il ricatto ci sia proprio Asu. Questa rivelazione potrebbe far crollare ogni certezza. Mentre Tufan sta per chiamarla, tuttavia, qualcosa lo convince a cambiare strategia e così la consegna nelle mani di Emir. Nella lettera, Kemal propone a Asu di distruggere insieme Emir, cedendole in cambio delle azioni della Cozquoglu, di cui è in possesso. Zehir informa Kemal che l'acquisto del terreno è concluso, ma il proprietario insiste per incontrarlo prima della firma, mentre il soidere si sfoga, ammettendo di voler nuovamente fidanzarsi con Asu. Nel frattempo, Aihan e Leila sono diretti in ospedale per ottenere il certificato di nascita di Asu. Così da provare la teoria di Kemal sulla parentela con Emir, quando un problema con la loro vettura li costringe a rallentare la corsa verso la meta. Prima di continuare, se vorresti ricevere in anteprima nuove anticipazioni di Endless Love, scrivi SÌ nei commenti. Riprendiamo. Emir, invece, chiede ad Asu di poter visionare i movimenti bancari aziendali e personali di Kemal, e indagando scopre che il suo rivale sta comprando delle azioni della sua impresa. Emir confessa a Safak il suo desiderio di mandarlo a studiare in Inghilterra, nonostante Akan non sia d'accordo. Finalmente, Aihan e Leila arrivano in ospedale e ottengono l'accesso all'archivio. Sfortunatamente, la raccolta digitale non va così indietro negli anni, e ai due tocca una laboriosa ricerca manuale nei fascicoli a disposizione. L'affare del terreno salta all'improvviso a causa dello zampino di Emir al quale qualcuno deve aver passato informazioni riservate, e Zehir sospetta che il colpevole sia Tariq. Emir è certo di aver ormai in pugno Kemal, e vuole dimostrare che il suo rivale ha commesso delle irregolarità nell'acquisizione delle azioni della Kodzkuoglu Holding, così chiede ad Asu di rubare i documenti che possano aiutarlo in questo intento. Leila e Aihan invece sono nella città natale di Asu e trovano, dopo tanta ricerca, il documento che prova che la donna è la sorella di Emir. Kemal rivela a Nian di aver trovato il documento che conferma la sua ipotesi. Emir e Asu sono fratelli. I due ora sospettano che Asu sia in possesso anche di informazioni sulla morte di Ozan. Nel frattempo, Zeynep è sempre più accecata dalla gelosia, e interroga Emir sull'identità della donna che è stata vista con lui, certa che l'uomo abbia una tasca con Asu. Proprio nel bel mezzo di questo confronto arriva Nian, che ha seguito Zeynep vedendola particolarmente strana. Mentre Zeynep chiede poi aiuto a Tariq, preoccupata che la verità sulla morte di Ozan possa venire a galla e che Nian scopra tutto. Se vorresti il continuo della storia, scrivi sì nei commenti. Lascia un bel mi piace. Lascia un bel mi piace. Grazie.